la finanza amichevole il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti curato e realizzato da alessandro fatichi buonasera e bentornati a tutti e benvenuti a questa nuova puntata della finanza amichevole che facciamo ormai periodicamente con i giovani stasera con noi abbiamo lorenzo francini al quale cedo subito la parola per presentarsi e poi iniziamo questa chiacchierata insieme ciao lorenzo e benvenuto ciao alessandro innanzitutto grazie grazie per avermi incluso in questo progetto è interessante poter parlare di finanza con persone pratiche nel settore ma anche a livello lo personale ha una nuova esperienza io non ho mai fatto una diretta né sui social e poi gli unici gli unici confronti che ho sono a livello universitario eventuali orali quindi grazie per questa opportunità io mi chiamo lorenzo francini ho 22 anni e ne devo fare 23 io ho frequentato il liceo scientifico guido castelnuovo poi dato il contesto familiare in cui tutti sono economisti o anche per interesse personale ho iniziato la triennale in economia aziendale a firenze e l'ho concluso a luglio l'anno scorso ho deciso di provare a iniziare un percorso magistrale fuori firenze quindi ho cominciato a fare i test di ammissione e sono stato preso all'università bocconi dove io faccio un corso che si chiama economia e legislazione d'impresa un corso che mi permette di focalizzarmi sulle operazioni straordinarie quindi finanza straordinaria sono molto soddisfatto di questa scelta perché al di là degli insegnamenti la bocconi ti dà tantissime opportunità sia per eventuali stage in ambito lavorativo ma anche per un confronto con persone che arrivano da tutto il mondo avevo avevo piacere a fare un'esperienza a livello internazionale perché fino ad ora ho fatto esperienze brevi sono stato in inghilterra a studiare un mese due settimane quindi avevo deciso di fare un erasmus quindi ho fatto domanda questo inverno chissà chissà se potrò andare quindi questo questo sono questo sono io e quello che ho fatto fino ad ora bene quindi diciamo la parte eh finanziaria come hai detto è un po' nel dna familiare fra virgolette da un punto di vista e che quindi e quindi la domanda diritto che aspetta anche a te come a tutti è è la considerazione che hai della finanza a parte quello che è la tua conoscenza però eh anche soprattutto in base a quelle che possono essere state eh gli approcci e anche se vogliamo un po' di formazione da parte eh della famiglia in merito a quella della finanza e quindi con gli studi che fai è certamente un qualcosa che ti porta a a sviluppare l'aspetto finanziario però sia prima che tu iniziassi questa fase di studio e sia ora attualmente proprio una considerazione di quello che è il mondo della finanza appunto studiando eh a livello di operazioni straordinarie eh delle aziende eh che cos'è a parte anche un aspetto di che ti incuriosisce ecco allora eh devo dire che il mio pensiero sulla finanza è cambiato da quando facevo il liceo ad ora perché prima la concepivo come trading quindi operazioni in breve termine guadagno immediato e con il percorso universitario come ho detto prima mi sono focalizzato sulle operazioni straordinarie quindi finanza straordinaria che comporta l'implementazione di operazioni con un ritorno nel lungo periodo quindi ho cambiato proprio il concetto passando da un orizzonte di breve periodo a uno di lungo quindi io principalmente conosco per quel poco che posso conoscere la finanza da un da un punto di vista aziendale quindi comunque con un riflesso in diretto sui mercati stessi perché ho l'opportunità di studiare anche casi pratici casi reali soprattutto di società quotate di grosse dimensioni però devo dirti che attualmente non mi fa impazzire la finanza dal punto di vista del trading ci sono vari motivi innanzitutto perché secondo me il valore si crea nel lungo periodo medio lungo termine e non nel breve termine con come si fa nel trading e soprattutto non non mi piace il fatto che sui social da qualunque parte se vengono sponsorizzate persone che cercano di far passare la finanza come una cosa accessibile a tutti semplice che ti porta a guadagni immediati perché poi noi vediamo queste persone che ostentano ricchezza facendo vedere le loro operazioni giornaliere che hanno portato a guadagni elevatissimi e questo non mi piace perché c'è bisogno di studio c'è bisogno di approfondire e passa un concetto sbagliato secondo me quindi questo è il mio rapporto no no questo è allora è una cosa che che mi fa piacere sentire anche perché detta da un giovane che è proprio il concetto stesso della finanza che hai detto che proprio eh la troppa facilità in cui viene pubblicizzato anche un guadagno e tra l'altro nei periodi poi di crisi in generale economica tutto ciò che viene eh considerato come guadagno immediato ma potrei parlare anche a volte dei giochi d'azzardo delle lotterie hanno un'impennata perché nei periodi di crisi le persone cercano di ottenere fra virgolette il tutto è subito anche negli investimenti e nel guadagno che come hai detto te di breve periodo che poi è come se uno va al casino o mettere sul rosso e nero quasi perché eh io con tutto il rispetto che ho del trading eh per fare trading vero bisogna studiare determinate tecniche di trading e passare la maggior parte del tempo giornaliero a fare quella cosa lì quindi è un mestiere quasi non è un investimento da fare così ogni tanto e il ritorno economico che come hai detto te studiando un'azienda pianificando eccetera ma che poi uno lo vede in grosse dimensioni per quanto riguarda gli studi che stai facendo ma ognuno di noi familiarmente è un'azienda quindi l'azienda stessa familiare deve pianificare un certo tipo di operatività e di eh diciamo da un punto di vista proprio anche di quelli che possono essere gli sborsi economici e questo si può fare soltanto pianificando e avendo un orizzonte di medio lungo termine a seconda di quella che possono essere eh diciamo eh le varie uscite o i vari impegni che uno si eh porta avanti e questo ribadisco mi fa piacere sentirlo perché eh è la conferma di quello che dico che voi giovani avete la mente molto più aperta eh e anche perché vi trovate in una situazione se vogliamo storica dove dovete per forza pianificare perché quelle che erano anche tante certezze che potevamo avere anche in Italia da assistenzialismo di garanzie di sicurezze posti fissi eccetera purtroppo negli ultimi anni e con il problema covid e diciannove ancora di più eh c'è da rimettere in circolo tutti il meccanismo e quindi se non si pianifica o si fa un qualcosa che abbia un certo percorso non si può fra virgolette pensare che qualcuno lo stato in particolare ci agevoli o ci appoggi più di tanto quindi certo poi un'ultima cosa anche sempre sul trading per carità non è che voglio sminuirlo facendolo passare come il male assoluto però per quelli che non hanno conoscenza in materia che decino di avvicinarsi faccio un esempio io al liceo avevo scaricato un'applicazione che mi permette di fare trading virtuale io i soldi non volevo metterli però la concepio come un giochino cioè non si ha la concezione che correlati a questi strumenti che te puoi acquistare vendere non si ha la percezione che ci sia l'economia reale dietro cioè noi vediamo prendiamo un titolo azionario nella società non è che pensiamo a dietro c'è la società e quindi il valore può essere correlato alle loro investimenti alle loro strategie ma vediamo come va se ha un trend rialzista o ribassista cioè anche questa cosa non non mi piace visto che poi studio un minimo di economia quindi no no ma questo è importante avere questo pensiero e trasmetterlo anche alle persone ai giovani eccetera perché è questo proprio l'aspetto che anche mi viene da dire spesso perché alla fine un certo tipo di finanza perché la finanza è in ognuno di noi e la finanza riguarda la vita di ognuno di noi tutti i giorni cioè non solo il mondo degli investimenti ma appunto la finanza familiare la finanza di un'azienda quindi è che un certo tipo di finanza che è quella anche che dicevi te prima ha soppiantato un po' troppo l'economia reale quindi si guarda più un aspetto speculativo della finanza o se la vogliamo anche definire un po' un po' troppo creativa rispetto a quella che poi invece è il riflesso sull'economia reale quindi l'analisi di un'azienda che la devo vedere finanziariamente ma devo vedere l'andamento economico di quell'azienda collegato poi al mondo della finanza e questo secondo me in questo momento storico ormai negli ultimi perlomeno dieci quindici anni questa finanza ha un po' troppo superato quella che è l'aspetto dell'economia reale e è per questo anche che nei momenti come possono essere questi di forte incertezza di forte speculazione i mercati finanziari ballano ancora di più per usare un termine molto semplicistico proprio perché c'è troppa finanza strutturata e creativa dietro da strumenti derivati strumenti alleva finanziaria strumenti fra virgolette troppo speculativi quello mi stai dicendo te è è praticamente il ritorno perché quando anche fai operazioni di trading stretto su determinati strumenti cioè non è che vai a comprare l'azienda sei a fare movimenti speculativi fra virgolette ma non sta investendo nell'azienda infatti volevo chiederti secondo te nel contesto attuale anche il valore dei singoli titoli quanto riflette effettivamente l'andamento di un'azienda o può essere influenzato da fattori esterni allora secondo me allora ci sono i momenti come è stato per esempio il mese scorso quando ci sono stati quelle due settimane e mezzo particolarmente pesanti dove mercati finanziari sono scesti brutalmente e in maniera anche molto irrazionale se vogliamo e hanno riportato le quotazioni a livelli che però una parte erano dettati se vogliamo dalla speculazione e dagli strumenti che si diceva prima e dall'altra parte quello che poteva essere la previsione di una di una forte recessione e che quindi le valutazioni di determinati non voglio dire aziende ma di tutti i mercati compreso anche quello obbligazionario quindi nemmeno quell'azionario risentivano di quello che poteva essere l'impatto recessivo di quello che poi porta l'effetto del coronavirus quindi quindi c'era stato un cosiddetto crollo su entrambi i fronti infatti era molto più amplificato perché c'era il crollo speculativo e quindi strumenti speculativi o chi scommette a ribasso che tendeva a portare giù il mercato crollo dovuto a quelle che erano le non aspettative economiche o la crisi economica generata da questo effetto virus il mercato nell'ultimo mese venti giorni è rimbalzato perché rispetto ai minimi mercati azionari alcuni hanno recuperato anche un 10 15 per cento quindi oggi secondo me ci possiamo trovare di fronte a valutazioni che sono più corrette perché scontano nei prezzi quello che che è la crisi che ci aspetterà da qui ai prossimi mesi è chiaro che se questa crisi dovesse essere più lunga o più forte può darsi che tra qualche mese si possa rivedere un assestamento di a un ulteriore livello di ribasso secondo me perché ovviamente poi se prendiamo l'esempio dell'italia si parla che per il 2020 un calo grosso modo del pil vicino al 10 per cento 9 50 9 60 peggio di noi solo la grecia sono previsioni se questi impatti questa cultura dovesse durare se si riapre ma poi facciamo aumentano i contagi e quindi si richiudano un'altra volta e quindi si rientra in una fase ristrettiva è chiaro che l'impatto sulle economie sarà ancora più forte quindi ci sta va benissimo che si possa vedere un ulteriore livellamento a ribasso viceversa se invece si trova un medicinale contro la cura se si rinizia a riprendere un po di passo si può vedere sicuramente un 2020 in forte crisi recessiva perché è un dato oggettivo però con un 2021 probabilmente di recupero perché si ritorna un po o a convivere con il virus e anche economicamente a rifare una ripartenza questo secondo me in questo momento le quotazioni possono grosso modo rispecchiare però se questi eh previsioni che ho detto vengono grosso modo rispecchiate perché se se questo effetto del virus dovesse essere ancora più forte ancora più vincolante è chiaro che eh in questo dieci quindici per cento che hanno recuperato fanno la sberta anche a riperderlo però quello quello che si diceva prima su determinati strumenti finanziari speculativi che ci sono sul mercato eh nel bene o nel male incidono troppo sull'andamento dei listini finanziari e c'è un certo tipo di strumenti io l'ho sempre detto non dovrebbero essere vietati non dovrebbero essere è chiaro che esempio ma anche la possibilità te puoi scommettere fra virgolette si dice a leva finanziaria cioè se te hai dieci ma puoi scommettere a leva due leva cinque leva sette quindi vuol dire poi anche ma puoi anche investire su una tendenza al rialzo al ribasso questi strumenti sono strumenti che non non rispecchiano un'economia reale o un'economia di una società ma è semplicemente uno strumento cosiddetto derivato questi strumenti però che cosa succede sono talmente presenti finanziariamente in tutto il mondo in tutti gli investimenti eccetera che riuscire a toglierli dal mercato brutalmente è praticamente impossibile potrebbero essere tolti fra virgolette gradualmente quindi anche questo aspetto della finanza come è strutturato ora e come è stato strutturato negli ultimi 15 20 anni è complicato riuscire a riportarlo a come era negli anni 80 e cioè compravi o vendevi sì potevi anche su determinate tendenze ma non c'erano tutti gli strumenti finanziari derivati che ci sono ora quindi questo è come quando è stato vietato le vendite cosiddette vendite allo scoperto per un periodo di tempo sulla borsa italiana le mesi scorse eccetera perché ovviamente generava quell'effetto quindi subentreri bassisti chi scommette il ribasso e quindi si va a lavorare su questi prodotti che influenzano il mercato in maniera se vogliamo un po' artefatta quindi e questo è chiaro incide va messo in conto e come dicevete prima e quando quindi quando andiamo a fare un investimento è bene porsi sempre un orizzonte di tempo che è di medio lungo termine valutando settori aziende stati in una certa maniera perché sono quelli che ci permettono di avere una visione più logica e più giusta però una domanda sui derivati cioè te attribuisci una connotazione negativa a tutte le fattispecie di derivati o ad esempio derivati di copertura o derivati che possono avere come sottostante una materia prima li concepisci in un'altra maniera perché quelli possono avere un'influenza sulla gestione operativa di un'azienda no ma infatti hai portato l'esempio perfetto come un altro esempio ancora più giusto possiamo farlo su una per un'azienda effettuare coperture derivati sulle coperture di cambio per tutelarsi da un'eventuale oscillazione quindi pago un premio per tutelarmi da una variazione del cambio quindi un certo tipo di strumenti sono importanti e fondamentali per la riuscita e per soprattutto la gestione di un'azienda quindi aiutano l'azienda e aiutano il mercato però come dicevo prima se te puoi scommettere su un indice a leva 5 leva 7 che al rialzo al ribasso questa è speculazione non è investimento quindi questa tipologia di strumenti mi permetto di dire a mio avviso perché ho vissuto il momento quando ho iniziato a lavorare dalle grida in borsa stando a telefono e quindi la contrattazione dei titoli a gesti sì c'era un certo tipo di strumenti dove potevi anche investire al rialzo al ribasso ma non erano gli strumenti che ci sono ora ora siamo arrivati un po troppo all'eccesso dal mio punto di vista e quella pubblicità che dicevi prima su internet le applicazioni che ci sono sono tante applicazioni che ormai poi funzionano tutte in maniera automatizzata e quindi te investi ma dietro c'è una copertura che non è spesso la copertura sul titolo fisico o sull'indice fisico ma è su un prodotto derivato dietro all'indice o all'azione e quindi io parlo prevalentemente di questa cosa qui tutto quello che riguarda materie prime valute eccetera che servono per coprire o per tutelare quello che può essere un investimento di un'azienda per quello che riguarda la pianificazione dell'azienda stessa quelli sono strumenti importanti e utili che rispetto a 30 anni fa che non c'erano o c'erano meno aiutano e quindi da quel punto di vista lì io sono favorevolissimo non sono favorevole agli strumenti che ti dicevo prima perché è come non è investire è una scommessa è una cosa speculativa la parola giocare e scommettere non fa parte degli investimenti sono il primo a riconoscerlo che un certo tipo di finanza ti ha fatto arrivare a un punto di considerarla come se fosse una scommessa o un gioco e questo non va bene ecco io poi volevo chiederti relativamente a ciò che studio le operazioni straordinarie volevo chiederti l'impatto che può avere la notizia di un'operazione straordinaria su sul mercato cioè quindi le operazioni straordinarie che vanno a riguardare le aziende quindi che impatto può esserci sul titolo perché noi a livello universitario si ci danno qualche concetto però magari una persona che ha potuto vivere mi può fornire informazioni aggiuntive non lo sa per questo allora partiamo dal presupposto che anche fino agli anni 90 non c'era la cosiddetta legge sull'insider trading per fare l'esempio e che quindi quello che poteva essere poi abbiamo visto tanti di quei film da wall street gordon gecko cioè quello erano gli anni dove la soffiata e tutto quello che riguarda la conoscenza il pilotare il mercato i mercati in parte se vogliamo sono pilotati anche oggi però quel mondo lì era un mondo veramente folcloristico e molto basato sulle voci eccetera però da quando è venuta fuori soprattutto sia le la legge sull'insider trading ma tutti quelli che sono anche i vincoli per le persone che lavorano all'interno di una società sia a livello apicale e a scendere fino in fondo perché quando lavori per qualsiasi azienda se è un'azienda quotata o fa parte di un gruppo quotato in borsa hai dei vincoli ben precisi sia sull'investire in quella società sia nel comunicare o poter parlare di notizie che sono riservate e in quel caso lì soprattutto anche per quanto riguarda operazioni straordinarie o di un certo tipo di comunicare a qualcuno o anche a un semplice familiare che sia in ballo determinate operazioni che possono andare a influenzare il prezzo di quel titolo lì e quindi oggi ci sono tanti vincoli e anche gli azionisti stessi delle società i proprietari hanno anche soprattutto dei vincoli di negoziabilità del titolo in determinati periodi e anche se deve essere fatto un'operazione specifica sul capitale della società eccetera non possono in quei in quelle fasi lì negoziare i titoli dell'azienda ah beh certo gli accordi di low cap esattamente e quindi è un discorso che questo ha migliorato la situazione perché prima appunto abbiamo portato l'esempio di un film ma che la realtà era in quel modo lì cioè non è che è un film romanzato perché il primo wall street il mondo negli anni negli anni primi anni 90 eccetera era in quel modo lì cioè non è che si sono inventati niente di 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 strano oppure the wolf of wall street quello con di caprio non è estremizzato nemmeno quello perché poi quello è basato su una storia vera quindi era un cinema un cinema in quel modo ecco parte sia un pochettino romanzato ma era abbastanza impegnativo però quindi secondo te ora pur avendo introdotto una regolamentazione per quanto riguarda l'insider training cioè come è cambiato e se sussistono ancora fenomeni di insider trading perché faccio fatica io a pensare che siano stati eliminati totalmente come questa regolamentazione quanto può aver attenuato allora in parte l'attenuato perché ovviamente si entra in un discorso poi anche a seconda dei livelli di procedimenti penali però se dovessi credere che sia stata zerato totalmente direi una bugia sacrosanta e non ci credo cioè non ci credo nemmeno cioè ci sono ma anche se vogliamo andare è come quando il presidente della fed era greenspan e sono persone che hanno in mano un potere talmente elevato a livello di tassi di interesse roba del genere voglio vedere se non avrà mai comunicato a nessuno determinate decisioni prima che venissero prese non ci non ci posso credere cioè lo dico in maniera più onesta possibile sì è chiaro sono cose eventualmente fatte in maniera molto 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 nascosta e poco visibile ma personaggi di tutto il mondo ma mettiamoci pure anche da presidente degli stati uniti d'america che con un tweet si sveglia una notte può cambiare le sorti di un paese cioè è stato pazzesco qualche giorno fa tesla tweet di elon musk boom titolo crollato cioè non ma come quando quello si alza la mattina e riparte col coronavirus che dalla cina non ha scosto e rivomettere i dazi sulla cina due giorni fa e quindi i mercati riscendono e chi dice quello qualcuno si sia riposizionato ai ribassi su determinati mercati cioè difficile regolamentarlo a livello totale faccio veramente fatica a crederlo ribadisco c'è una regolamentazione ora che penalizza fortemente sotto tutti i punti di vista che determinate cose non possono essere fatte che prima probabilmente negli anni 80 90 le persone che lavoravano anche per un'azienda quotata o o a livello dirigenziale o dei dipendenti quando ci poteva essere un'operazione che era in ponte la settimana prima iniziavano a comprare o a vendere titoli di quella società cioè eh era era quasi all'ordine del giorno o determinati eh personaggi che io ho lavorato io ho un mese e mezzo in borsa a Milano alle grida quando iniziò a lavorare e c'era determinati soggetti determinati si chiamavano agenti di cambio che erano quelli autorizzati a trattare i titoli e e certi personaggi storici avevano in mano informazioni di qualsiasi tipo e che movimentavano le cose in base a determinate informazioni cioè era era l'ordine del giorno negli anni 80 questa cosa qui primi anni 90 era poi è chiaro con tutte le le gli scandali casini e roba del genere che sono venuti fuori poi c'è stata questa forte regolamentazione e quindi i rischi sono elevatissimi perché appunto si va sul penale di conseguenza eh problematiche sono sono forti però non potrei mai credere che oggi questa cosa sia sia totalmente finita perché sarei direi una bugia a San Rosato perché non ci vedo un po' improbabile un po' improbabile quindi volevo chiederti eh ora andando al di là di quello che posso studiare ma introducendo l'argomento della del risparmio gestito cioè nel rapportarsi relazionarsi una persona com'è che si va a comunicare il concetto è che il lungo termine medio lungo termine è l'orizzonte temporale da prefissarsi allora questo è mi sembra un concetto che detto a parole scusami se ti interrompo detto a parole mi sembra talmente facile però poi entra in gioco componenti di razionalità o anche semplicemente il desiderio di ottenere un guadagno immediato che quindi dico com'è che effettivamente si va a comunicare allora te hai toccato un tasto dolentissimo per quello che riguarda la mentalità degli italiani perché siamo soprattutto noi italiani che non abbiamo la mentalità della pianificazione e del medio lungo termine perché come dicevo prima siamo abituati al tutto e subito eh in Italia si è creata anche ricchezza in alcuni settori eh troppo facilmente eh si comprava le case salivano sempre si compra le case tanto nel lungo termine le case si guadagna sempre eh posto fisso garanzia del posto la pensione tanto ce la danno eccetera in tanti anche tutt'oggi non pagano le tasse e quindi non è perché voglio dire il discorso l'evasione fiscale in Italia c'è perché se tutti si pagasse le tasse regolarmente problematiche ce ne sarebbero un punto meno e questo ma sono tutte cose che sappiamo non si scopre nulla di nuovo però questo aspetto che te hai cercato è fondamentale perché quello che hai detto te che è una cosa che teoricamente è la base perché uno dice io investo pianifico in un certo periodo e quindi devo agire in questo modo l'investitore medio italiano non la pensa così perché irrazionalità è diventata studio la finanza comportamentale è proprio oggetto di studio perché di gente che vende ai minimi e compra ai massimi perché comunque è l'effetto panico come è successo anche il mese scorso anche il mese scorso siamo stati di fronte a una situazione storica sotto alcuni aspetti mai vista prima perché tolto il famoso venerdì nero di wall street dove la borsa perse in un giorno il 23 per cento il mese scorso in un giorno ha perso il 17 quindi non è che siamo andati tanto lontani e in quei momenti lì gestire la razionalità è complicatissimo però quello che dicevi te è la base perché se l'orizzonte di tempo è infatti in una certa maniera devo valutare quello che sta succedendo ma la scelta che posso prendere in un momento del genere può essere nella maggior parte dei casi è una scelta irrazionale presa dall'emotività che mi porta sicuramente a fare uno sbaglio e che è successo e succederà ancora però grazie a voi giovani uno lavora su una mentalità diversa perché anche oggi le economie andranno male per un periodo i settori andranno male sicuramente determinati settori ma oggi facendo una certa pianificazione c'è da investire non di non aver paura a investire perché la situazione anche a livello di prezzi eccetera è cambiata e se casomai c'è da cambiare i settori su dove investire quelli che probabilmente fino a stai mesi fa erano meno sfruttati o quanto meno determinati settori che ci sono oggi che hanno meno possibilità perché cambia la nostra vita no facciamo l'esempio stesso settore dei trasporti aerei delle compagnie aeree per un certo periodo di tempo ci sta che possano subire un contraccolpo settore degli automobili siamo tutti di fronte ormai più al concetto dello sharing cioè di noleggiare una cosa se ne ho bisogno dalle biciclette dai computer dall'automobile quindi paradossalmente ora parlare di noleggio con la herz che ha rischiato di fallire e quindi però sai noleggi il bene quindi certo certo parlando di io se vado alla herz noleggio pago e utilizzo la macchina sto parlando del settore automobilistico delle vendite delle automobili è chiaro il boom in quel settore lì forse lo si avrà quando ci sarà il passaggio totale a un discorso di alimentazione diversa quindi potrà essere o l'elettrico o l'ibrido allora ci potrà essere però anche per quella che sono le esigenze di voi giovani come potrei parlare mio figlio che è tuo coetaneo cioè l'automobile sì se c'è c'è se non c'è uguale cioè perché tanto poi in determinati posti mi devo muovere in treno piuttosto che in aereo o ed avere la macchina me ne importa fino a un certo punto perché cambia anche il modo in cui uno si sposta tra virgolette no perché poi i parcheggio in città dove parcheggio la macchina cioè arrivo se vado a milano o a roma cioè escludiamo ora che le città sono vuote ma se no vai in treno prendi la metropolitana giri cioè chi me lo fa fare ad avere un'automobile per entrare in centro a milano cioè io io a milano io cioè ora che vivo a milano vivevo io ho vissuto qualche mese cioè io a firenze mi muovevo mi muovevo sempre in motorino mai preso un mezzo di trasporto da quando sono a milano cioè mi sembra naturale prendere il mezzo di trasporto mi porta in quel posto in cui vuoi andare perfetto ho un po' meno di libertà di movimento ma non è un così grosso cambiamento tutte le ore ormai quindi non è nemmeno e quindi è il con quello che si diceva prima è che per tornare per per concludere che il concetto del medio lungo termine è una cosa che teoricamente è dovrebbe essere la bc e invece in realtà non lo è non lo è per per quello che si diceva prima perché è proprio la necessità quasi del del tutto è subito ma lo si vede anche in determinate aziende in italia dove c'è il manager di turno che deve fare risultati immediati quindi fa risultati obiettivi che sono in quell'anno lì mi permette di dire per prendere il bonus ma non vede in un'ottica più di 35 anni è per questo anche che tante aziende in italia non si sono sviluppate più di tanto perché perché l'asse manageriale è stato un asse manageriale mio perché il manager stesso sapeva che dopo un anno un anno e mezzo non sarebbe più stato in quell'azienda e quindi dice io cerco di fare il mio cerco di ottenere il massimo per un anno e mezzo e poi dopo che cosa succede succede e poi anche a livello italiano la la prevalenza di aziende familiari che sono ostili a un'apertura verso soggetti terzi anche per la conduzione dell'impresa è come lo stai studiando ora come quello che è anche il i problemi dei passaggi generazionali no delle aziende è uno dei problemi più grossi che ci sono in italia eh dai patti di famiglia ai passaggi generazionali e perché comunque eh a volte c'è il fondatore no che è stato illuminare che ha fatto eh i risultati e poi eh non è stato bravo o non ha trovato nei figli e nei nipoti il il proseguimento di quello che è stato il suo business però non ha fatto un passaggio verso su un soggetto terzo dell'azienda l'ha passato lo stesso ai figli o ai nipoti anche se il figlio e nipoti probabilmente non era preparato sufficientemente per portare avanti un certo tipo di percorso che aveva fatto il il fondatore e questo succede spesso non è se lunga eh con caprotti che aveva passato i figli ma vedendo che non avevano capacità di gestione aziendale ha ripreso il controllo infatti lui è stato uno di dei soggetti lungimiranti perché poi alla fine eh dopo che è venuto a a mancare cioè l'asse eh familiare non è quello che comanda che che gestisce realmente l'azienda eh e questo è un dato oggettivo poi ci sono tantissime aziende invece dove figli o nipoti sono anzi hanno sviluppato ancora di più il ma 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 lì è un discorso di lungimiranza di di coinvolgere i figli o i nipoti in azienda fin da piccoli cioè cioè coinvolgerli fin da subito non quando c'è bisogno di fare il passaggio ma quando c'è stato bisogno di portare cioè è stato fatto un processo di pianificazione come si diceva prima anche su un passaggio eh aziendale cioè ad esempio io ho avuto la possibilità a lezione online di ascoltare eh il proprietario della società e si vedeva proprio come i figli erano già inclusi nella nell'azienda ricoprendo eh ruoli manageriali quindi qua fa vedere proprio la programmazione anche per un futuro ricambio generazionale ma non penso che sussista in tutte le realtà perché se no non si starebbe troppo a parlare di questo argomento. No no guarda ma ti porto un esempio ancora più semplice è uno di quei temi su corsi che ho fatto che sto facendo un percorso che riguardano appunto anche questo aspetto qui ma una cosa anche più semplice possibile in Italia non c'è la mentalità per far capire anche quanto non c'è il concetto di programmare di trasferire quante poche persone in Italia fanno testamento testamento che è la cosa più semplice possibile può essere scritto su un foglio olografo non c'è bisogno nemmeno di depositarlo cioè è una cosa di una semplicità unica non viene fatto e spesso quando poi succede il il viene a mancare c'è un gli eredi si ritrovano case eh denaro aziende non viene stabilito nulla e gli eredi si trovano in un caos pazzesco sia a livello di costi diciamo da un punto di vista successori enormi che spesso pensano nel nel litigare fra di loro perché perché anche spesso c'è qualcuno dice no ma questo a me questo a te questo no ma a me un semplice testamento mette per i comuni mortali sto parlando eh non nemmeno proprietari di aziende sto parlando anche di persone normalissime un semplice testamento anche per fare la cosa più semplice eh il genito rimane un genitore a due figli e a due immobili se non fa testamento i due figli si trovano il 50% di due immobili basta scrivere uno va a uno uno va all'altro se c'è uno eventualmente in base alla differenza del prezzo con guaglia l'altro basta scriverlo poi ci sono delle formule che ti possano permettere di eh fare un certo dico ma con un semplice testamento scritto si risolve rogne discussioni spese in Italia le persone che fanno testamento sono pochissime però sai lì se non entra un'altra componente no è perché si tocca un attimino perché fa gli scongiuri eh sì i paesi anglosassoni testamento e pianificazione lo fanno le persone che hanno trent'anni quindi è un discorso di cultura ho capito dice non voglio fare esempi troppo lampanti ma quello che hai detto te è il novanta per cento dei motivi perché non vi è infatti il testamento no se fa il testamento porta male però allora Lorenzo come si era detto oltre che mezz'oretta è 40 minuti che stiamo a parlare quindi il tempo sarebbe passato velocemente allora mi ha fatto piacere molto scambiare con te queste queste opinioni anche perché abbiamo affrontato eh vari aspetti non solo quelli della finanza ma poi appunto siamo entrati anche in un discorso di passaggio generazionale di testamenti quindi siamo andati sempre in aspetto finanziario ci mancherebbe altro però siamo andati proprio in un aspetto molto molto importante eh ti ringrazio no no grazie a te è un modo anche per iniziare questo progetto che mi piacerebbe sviluppare con voi giovani di coinvolgervi più possibile in questo eh chiacchierate e anche sviluppare insieme anche più concetti e più aspetti che possono essere anche un po' più più ostici per voi ti saluto rendiamola amichevole perché è un dato è un dato ormai dal slogan e un caro saluto e ci sentiamo ciao alessandro ciao ciao ciao